Contaminazione insieme a Industria Grafiche Servi ha creato i Conte Servi e il nostro slogan è il cartone con amore perché lo trattiamo come se fosse un frutto del desiderio, come se ogni prodotto viene modellato, rivisto, seguendo tutto quello che cerca una donna, dal colore, dallo stile, dall'utilizzo e quello che noi ci teniamo che sia ecologico, è il momento che ci stiamo rendendo conto che il mondo ecologico è un argomento che sta prendendo in tutti i campi. Tutto quello che è venuto fuori non è stato solamente conoscere il prodotto ma è stato anche studiare la forma del cartone, insomma che cosa potevamo creare con il cartone, visto non solamente a livello tecnico ma anche a livello di design e questa è stata un'esperienza incredibile perché abbiamo cominciato a studiare delle soluzioni con diversi foglie a incastro, abbiamo creato delle sedute o anche dei tavoli molto particolari. Partecipare a questa fiera è molto importante perché il nostro cliente finale, l'utilizzatore finale è una donna, dunque sentire le sue esigenze, sentire quello che ha bisogno, sentire le sue richieste è importantissimo. Dunque per noi è anche, oltre a farci conoscere, oltre a avere un riscontro di immagine, è anche importante metterci a confronto con l'utilizzatore finale per creare nuove linee, per capire i gusti, per approfondire questa cosa perché la progettualità, la creatività è fondata su questo, oltre alla tecnologia è fondato anche ai gusti delle persone che possono acquistare questi prodotti. Le donne hanno voglia di avere sempre pezzi unici, hanno voglia sempre di essere sempre diverse dagli altri e anche nell'arredimento è così e dunque noi ci siamo tutti, noi di volta in volta li cambiamo, li variamo, proprio con tutto quello che necessita il cliente.